Che questa persona, che non posso chiamare una persona, questo criminale di guerra, in generale criminale, può prendere la nostra terra, ma non piegherà il nostro popolo. E poi entrerà nella storia come un avvelenatore e un criminale di guerra. E che noi preghiamo per il popolo che sta soffrendo, ma Dio è con noi. E' con noi, perché con noi è la verità, con noi è la pace. E il diavolo ha tante facce, ma la verità è l'unica. E Dio ci protegga, noi siamo forti, non sappiamo come finisce questa storia, ma questa è la fine di tutti. E io ci sarò.